buongiorno ragazzi allora questa è un'informativa per noi camperisti qui siamo nell'area di servizio brugnato ovest se capitate da queste parti e avete la necessità di caricare scaricare in tranquillità e poter anche sostare o pernottare eccetera c'è una bella diciamo un bel parcheggio un'area sosta con carico e scarico come vedete con tre stralli tre stralli su su blocchetti bella pulita bella tranquilla tranquilla per modo di dire perché abbiamo l'autostrada qui però tranquilla un per una sosta per caricare scaricare come vi ripeto area sosta brugnato ovest questa dove sono io fermo è in direzione genova ma suppongo che se c'è da questa parte ci sarà anche dall'altra parte verso la spezia quindi ecco qua qui ora vi faccio vedere ecco qua questo è lo strallo dove c'è il carico e scarico bene detto questo che vi devo dire buoni chilometri a tutti e viva la vita